Guarda, con Masini, noi stiamo andando avanti con Masini, Arcamone è già un nome, no che non va più di moda assolutamente, è un buon giocatore, però abbiamo altri calciatori lì con le sue caratteristiche. Con Masini ci incontreremo a giorni, se il ragazzo è felice di venire qui a Messina e darci una mano, farò fare uno sforzo alla proprietà economicamente, proprio uno sforzo economico. Se il ragazzo non lo vedo convinto è tutto, abbiamo già altre alternative, non è questo il problema. Nella costruzione della squadra sta pesando anche un'incogna del campionato, ci sono queste voci che parlano di possibili ripescaggi riaperti con il Messina in buona posizione, sta attendendo anche questo? Sicuramente siamo sempre con gli occhi ben aperti e le orecchie a sentire le sirene, perciò anche sta rallentando un po' questo mercato. Ma lo stesso noi non possiamo farci trovare impreparati perché siamo il Messina. Abbiamo degli obiettivi o ripescaggio, senza ripescaggio li porteremo avanti.